Bentornati su Soluzioni PC. Oggi andiamo ad indagare un problema abbastanza specifico. Tempo fa un utente mi ha scritto Ma se io ho un account Microsoft per accedere al mio computer è possibile rimuoverlo e creare un account locale? Come si faceva una volta senza dover loggare con l'account Microsoft? Ora questo commento si trovava sotto il video di come installare Windows 11 senza account Microsoft Però giustamente se l'avete già fatto, se avete già dato il vostro account Microsoft per l'installazione di Windows oppure vi hanno dovuto obbligare a crearlo come si fa a rimuoverlo? Allora, ecco qui il nostro Windows 11 appena installato con account Microsoft Andiamo su Start Impostazioni Account E da qui, come potete vedere, sono loggato con un account Microsoft Scendiamo in basso e cerchiamo altri utenti Qui possiamo creare un nuovo account In questa schermata diciamo che non abbiamo informazioni per l'accesso Quindi bypassiamo l'account Microsoft In questo caso ci chiederà di creare un account locale Anche qui andiamo su Aggiungi utente senza account Microsoft Ed ecco qui Diamo un nome Al nostro utente Non c'è bisogno della password se non volete Andiamo su Next Ed ecco qui che il nostro account è creato Una volta creato il nostro account Dobbiamo farlo amministratore Premiamo sulla freccia Sulla destra E facciamo cambia tipo di account Da standard lo facciamo diventare amministratore Premiamo OK E confermiamo la cosa Adesso dovremo uscire dal nostro account Microsoft Andiamo su Start Clicchiamo sulla nostra iconcina Clicchiamo sui tre puntini E facciamo logout Benissimo Adesso riaccediamo con il nuovo account In basso a sinistra Che abbiamo creato La prima volta farà tutta la presentazione Come se non aveste mai acceso il vostro PC Ci metterà qualche secondo Ma poi avremo il nostro desktop Ci farà fare la solida configurazione iniziale Come se non avessimo appunto Mai acceso il nostro computer Facciamola rapidamente Ed ecco qui il nostro desktop Torniamo immediatamente su impostazioni Poi su account E come potete vedere Adesso sono loggato con un account locale Scendiamo in basso su altri utenti E eliminiamo il nostro account Premiamo remove Qui ci dirà che tutti i file dell'utente Verranno cancellati Quindi fatevi una copia Prima di fare questa operazione Premiamo su cancella Ed ecco che il nostro account Microsoft Ed ecco che il nostro account Microsoft è sparito Adesso avremo solamente l'ultimo account che abbiamo creato Da qui potrete comunque riaccedere E far diventare questo account Un account Microsoft logato online Spero che vi sia stato tutto chiaro Lasciate un like per altre soluzioni PC E commentate se avete dei problemi O volete farmi qualche altra domanda Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao